Il quarto quarto, già in attacco la Todis con questo tentativo di Wanderlinden, rimbalzo di Gomez che lavora con più calma la palla, ora prende il centrette palla a terra, la scarica nell'angolo per Gomez, tripla bersaglio della numero 10. Lascia per un momento sfuggire la palla, poi gli attacca forte il ferro, si aiuta a servire Gomez prima di toccare con il piede la Gomez, ma neanche un ulteriore tentativo che ne ha sfidato ancora al numero 10, che mi dava paradisi. Poi si va con il tripla, perfettamente a segno di spazio, ma io ho chiuso davanti al mente, raddoppio su Cremona e provo a mandare in qualche modo la palla in area, grandissimo recupero di Gomez, adesso palla in tassa per Durano, deve sfruttare e tenere la palla il secondo, appunto, non va a essere bene anche tu, secondo, non va a essere bene. Grazie a tutti. 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 Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah